Sì, c'è Vincenzo Fiorillo, portiere del Pescara, con cui commentiamo questa vittoria importantissima, fondamentale, con il ritorno in campo dal primo minuto di Vincenzo Fiorillo, che diciamolo subito, questa sera non ha dovuto compiere un gran lavoro. Sì, sono solo contento di essere rientrato con questa vittoria importante e un complimento appunto a tutta la squadra, perché se mi hanno fatto passare una serata tranquilla è merito loro. Vincenzo, sei un attento osservatore e conosci bene il calcio. Secondo te, rispetto al Pescara dell'ultimo periodo, oggi cosa è cambiato? Perché sostanzialmente, come diceva il collega, sei stato uno spettatore della partita, mentre il Pescara ultimamente aveva concesso tantissimo. Sì, oggi si è rivisto quella cattiveria che ci ha chiesto il mister, ma siamo abbastanza grandi da aver capito che magari nelle ultime partite avevamo perso un po' di quest'agonismo qui. La squadra penso che abbia lavorato benissimo. Un mio pensiero personale è che alcune critiche forse sono un po' eccessive nei confronti di una squadra che è partita senza affari spenti e si ritrova sempre tra le prime 3-4 posizioni. Questo è la verità. Credo dovremmo essere tutti un po' più contenti di questo Pescara perché io in primis sono orgoglioso dei miei compagni perché è dall'inizio dell'anno che quando finiscono le partite la gente esce stremata con i crampi. Quindi credo che di più non si possa chiedere. Stiamo facendo un cammino a mio avviso un po' sottovalutato forse. Tre punti fondamentali per la classifica, per il morale, per i tifosi che questa sera, quei tifosi che erano presenti sugli spalti, vi hanno incoraggiato dal primo al novantesimo. Ora però questi tifosi si aspettano un risultato positivo lontano dall'Adriatico. Innanzitutto la squadra questa vittoria la vuole dedicare a questi pochi tifosi che c'erano questa sera, quelli che c'erano con il Carpi perché sono questi i veri tifosi del Pescara ed è per questo che siamo contenti di avergli dedicato l'ultima vittoria in casa. Ho detto pochi, perché ve ne aspettavate di più? Io sono qua da tanto, conosco talmente bene questa piazza che mi ritengo fortunato ad avere quelli che ci sono in questo periodo perché questi sono i veri tifosi del Pescara e bastano e avanzano e siamo felici di avergli dedicato questa vittoria. Vincenzo, quando parli non sei mai banale. Poco fa hai detto critiche troppo cattive per questa squadra. Mi dici cosa ti ha dato particolarmente fastidio? Ma in generale, qualche critica appunto sul gioco, nell'ultimo periodo queste mille chiacchiere su questo centrocampo che fino ad oggi ha costruito una delle certezze di questa squadra. Non possiamo pretendere che Brugman e Moucha e Macin vincano le partite da soli. Come stasera una giocata di Brugman ci ha fatto vincere la partita, bisogna essere un po' più lineari, nel senso che un giocatore nell'arco di 18 partite, 17, 16, può fare qualche prestazione un po' meno brillante. Ma sono tre giocatori che in questa categoria sfido chiunque che non li vorrebbe avere nella propria squadra. E ripeto, è il campionato del Pescara, il cammino del Pescara è dall'inizio dell'anno che è nelle prime 4-5 posizioni. E credo dobbiamo essere un po' tutti più contenti di quello che questa squadra fa vedere sotto il profilo dell'impegno e dell'attaccamento. Ci auguriamo che con il passare delle partite, se saremo bravi a stare ancora lì, la gente si affezioni ancora un po' di più a questa squadra perché solo merita. Terzo posto in classifica, ora si guarda la gara di Salerno, insomma in caso di vittoria ci sarebbe la possibilità di girare a 32 punti, che non sarebbero pochi. No, no, sono tantissimi anzi, però sappiamo benissimo che andare a vincere alla Rechi ci vuole una partita al limite della perfezione. Hanno appena cambiato l'allenatore da poco, hanno ritrovato un entusiasmo che non avevano più nell'ultimo periodo. Abbiamo poco tempo, adesso c'è da archiviare subito questa vittoria, staccare e recuperare le energie domani e preparare subito la gara di Salerno perché sappiamo che andiamo in una bolgia e sappiamo che per uscire da lì con i tre punti ci vuole un qualcosa ai limiti della perfezione. Vincenzo, io ti chiedo un'ultima cosa, secondo te questo periodo del Pescara, non come l'inizio e non magari anche come questa sera, può essere anche un po' frutto di tanti infortuni che hanno privato, proprio come dicevi tu, Bruggemann, Memuscia e Mascine, di alternative anche dal punto di vista fisico per fiatare un po', perché poi si è fatto male Meregoni, si è fatto male Canute e Palazzi, veniva da un lungo infortunio? Beh, sicuramente, abbiamo perso strada facendo un giocatore con Becampagnaro che con tutto il rispetto penso sia un lusso anche alla società per questa categoria. I ragazzi che hanno giocato di più hanno sempre tirato la carretta dall'inizio alla fine, credo che il loro cammino fino ad oggi sia stato ottimo, quindi è normale che gli infortuni un po' perdi dei giocatori importanti, Melegoni stava trovando una condizione ottimale, ha avuto questo infortunio al ginocchio che per fortuna è stato meno grave del previsto, però credo che tutti quelli che siano entrati o abbiano giocato abbiano fatto bene, ecco, perché ci sono anche tanti ragazzi che danno un esempio straordinario, come Ciofani, come Crecco e tanti altri ragazzi che sono la forza di questo gruppo, perché vorrei fare l'esempio di Melegoni, questa sera è entrato e ha dato una grandissima mano, è entrato con un atteggiamento straordinario ed è questa la mentalità per arrivare a qualcosa di importante.